C'era un problema nel turismo in moto, i capi di abbigliamento erano costantemente neri, poi è arrivata una casa olandese che ha decisamente rivoluzionato il modo di vestire e di andare in moto, soprattutto nel turismo. Stiamo parlando di Revit, una casa che viene dall'Olanda e che per il 2019 Oram è felice di proporre ai propri clienti. Quindi a partire da gennaio potete trovare nel nostro showroom la gamma di Revit che non si compone soltanto di capi turistici di altissima qualità ma anche di capi di abbigliamento per l'urban, per il settore caffè racer e per lo sport race. Addirittura Danilo Petrucci ha affidato la sua protezione proprio ai ragazzi di Revit. L'innovazione di questa casa olandese sta principalmente nei materiali e nelle tecnologie utilizzate perché troviamo dei materiali proprietari come ad esempio l'Armacore che è un mesh molto molto robusto che arriva resistenza e l'abrasione simile a quelli della pelle e le protezioni fatte in C-flex, quindi protezioni molto morbide che riescono comunque a raggiungere il livello 2 di certificazione, quindi il livello più alto. Siamo veramente felici di questa collaborazione, vi invitiamo a venireci a trovare in showroom appunto a partire da gennaio dove saremo molto contenti di proporvi la gamma Revit. Appuntamento al prossimo video sempre con Oram e Always Riding, ciao! Grazie!